E. Gay Sports. It's in the gate. Allora, mi dicono che c'è qualche pacchettino da aprire, vero? Eh, mi dicono anche che saranno delle buste. Troviamo Workout ed apri un'inchiesta perché sarebbe strano. Allora, facciamo il giochino. Io mi bendo, tanto c'è la prova perché sto registrando con la facecam. Devo indovinare, ok? L'argento lo salto perché chi cazzo li conosce? Quindi io ti dirò la nazionalità? Sì, salto qui, nazionalità, club, cose così, devo indovinare il nome. Questo è verde perché tanto è un coglione. Mega pacchetto, ok, allora mi devo mettere qualcosa sugli occhi. Dietro di me c'è una sciarpa nel mio. C'è un 82 più garantito qui, dai, quindi vediamo che succede. Tanto se ti metti a ridere so già che farà cacare. Cercherò di essere impassibile. Allora, sciarpa del Milan sugli occhi. Appena vuoi, non varare, eh. Ci sarà la prova che vedrai. Allora. Sicuramente oro. Inglese, terzino destro. Alexander Arnold. Esatto. Vabbè, dai, come partenza non ci si può lamentare. È molto buono. Walk out, iniziamo così, insomma, io non mi lamenterei. L'ho trovato io ieri e mi è piaciuto, cioè è forte. Ciao, ciccio, come stai? Quanto cazzo è brutto? Beh, esagono i fantasmi di una volta del Milan. Luisa Adriano, ragazzi, un nastro nascente del calcio mondiale. Del calcio di merda. Morata. Beh, allora, primo pacchetto, devo dire che non è male, eh. Cioè, è tenuto da una SPC. Ho iniziato con un walk out, è incredibile. Zinco Prime. Un 80 più. Non guardare. La musichina mi sa che ha walk out anche questo. Belga del portiere. Bruges. Eh, sì, vaffanculo. Eh, t'ho dovuto di anche la squadra perché questa qui mi sembra... No, mignolè. Ma chi cazzo ci arriva? Giocatori misti, ma questo sarà una merda sicuro. Che schifo. Mi bendo, ma tanto. Non è neanche raro dalla risata. Allora, aspetta, brasiliano, cdc, udinezio. Non è Becao, perché è un difensore centrale. Arslan? No. Con che lettere inizia? W. William? No. Wallace? Sì. Ok. Cazzo, è l'argento. Ci hanno dato un argento. Come di darmi tipo 150.000 punti? No, aspetta, ma un altro non è lui. È un portiere questo. Allora, giocatori misti rari. C'è l'81 più garantito. Meno male, a me non è niente più Wallace. Wallace e Gromit. Dio. La caca! Allora, spagnolo delle spagnole. A tutti. Non ne ho proprio minima idea. Yoselu. Cazzo, però è un team of the week. Beh, sì, appunto, diciamo che non è un malazzo. Lo posso vendere? Lo posso vendere? Sì, dai, suoi 13-14 tappi. 13, sì. 13 si vende. Forte del suo 65 di velocità. Non l'userei manco fosse l'ultimo giocatore che mi è rimasto in rosa. Ok, sicuramente questo sarà una merda. Italia, dici, serie A. Beh, potrebbero essere tantissimi. Però mi butto. Romagnoli o Acerbi? No. Squadra? Eh, se te la dico, lo vetti subito. Juve? No. È una big? Sì. Se è Lazio o Romagnoli? No. Se è Roma o Mancini? No. Eh, dici... È oro, vero? Sì, è oro. Se è Atalanta e Toloi? Se è Inter e Bastoni o Acerbi? Sì. Bastoni? Sì. Vabbè, è buono, dai. Sì, ci può sta. Io, fossi intero, linkerai insieme a Screener, così fanno pulito. Eh beh, sì, ma Ruben Dias è tutta un'altra cosa, eh. Eh, lo so, lo so, per carità. Giocatori misti, rari, piccolo. Posso immaginare che c'è... Ah, ok. Della figlia. Allora, portiere Cameron, serie A. Sì, è una no. E poi l'ho dato via nell'SBC che me l'ha ridato, bellissimo. Ti rendi conto? No, non lo scherzo, è una cazzata, è proprio un doppione. Beh, bello. Si può scartare direttamente il pacchetto qui? Qui al massimo è 83. Quindi 75 saranno. Qui sei utile solo se tipo medaglia d'ama fra re. Slovacchia, DC, Sejanor. Sì, vabbè, vaffanculo. Chi cazzo è? Anco. Adesso si arriva al piatto forte, prima della carriera. Ah, si spera, dai. Sta a vedere mi dà un 80, ne sono sicuro che mi bendo. Olanda, portiere. Ajax. Sillessen. No, mamma mia che sbocco. Password, mamma mia. Vabbè, zia, ascolta, 13k. Ah, no, non è... Cioè, questo potere qua, ragazzi, c'ha 39 anni. Sì, ma se si scartando, lo puoi mettere per usarlo in un altro SBC. Bello. Cioè, io ho fatto... Ho dato via una rosa 83 per pigliare un 81, mamma mia. Gioca, va, che è meglio. Va bene, dai, carriera. Gioco la prima. Poi, se ti alletta, ti posso far giocare la seconda, perché tanto non stai giocando online, quindi non c'è l'intasamento di coso, come si chiama? Sì, sì. Di connessione. Lui è CR6. E sai cosa? CR6 non suona tanto bene. Quindi farò un cambio. Hai fatto un po' di pulizia. Ovvio. Lui sarà... CR4. CR4 è più bellino. Come stai messo a... Cioè, sei coperto in tutti i ruoli? Guarda la classifica. Minchia, dai, ma sei in ciabatte. Vabbè, no, Fra, alziamo un pochino il livello, perché sennò, cioè... Se lo alzo, Fra, è difficoltà estrema, dopo non giochi più. La prima, comunque, è Ascoli-Pisa. L'Ascoli dov'è in classifica? Boh, me tredicesimo, dai. Va bene, dai. Comunque, è divertente, perché Mike Shaw ci ha fatto la cadera e ha preso sia Vega che CR4. Però il bello è che lui... Quello video lì l'ha pubblicato dopo che avevo già pubblicato il mio. Il film ci sono arrivato prima io su Vega CR4. Comunque... Ah, e ha preso anche Denier. Cioè, te potevi anche, tipo, giocare solo i momenti clou per provare un po' la modalità. L'ho provato. Nella partita scorsa l'ho fatto per sbaglio ed è una merda assoluta. Ho fatto tre gol su quattro azioni e ho vinto 3 a 1. Non so quando e dove ho preso il goccio, però vabbè. Ascoli-Pisa. Questa è una partita di un certo spessore. Io mi sto emozionando. Tutto più lento e più macchinoso. CR4. Chi cazzo è quel numero 55 con le maniche lunghe? Mamma mia che roba. Bello. Bello. Già fanno puttanate quando è giocato di forti. Fino a te quando è giocato di scarsi. Zii. No. No. 73 gol in 19 partite. Ma che cazzo vuol dire? Non fatti più comunque qui che su foot. CR4. 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 L'apre lui. E nonno, fatti comunque più qui che su foot di gol, eh? Io forse intalzerei perché c'è così, secondo me non c'è neanche gusto. Ma come? Najee. CR4. Ti sei cacato addosso, eh? L'ha fatta anche ribalzare. Boom. Dio becco. Allora, attiviamo un attimo i bug. Corri verso il primo palo. Vediamo se funziona. Eh, 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 eh. Non male. Ok, perfetto. Allora io voglio mettere Silva per Scalvini. A caso. Sennò tipo avevo straperzo. No. No. Dio bigno. Caligara. Fontana. No. Ma che cazzo ho appena visto? Non era per lui. Sì, lo è. Ma perché? Perché? Che cosa sta succedendo? Ora lo fai brutta merda? Sì, non lo fa parare. Sì, chiudi sta partita che poi te ne penti. Si gira. Beh, ho pensato. Cosa può unire interisti milanisti e juventini contro di te? E poi sono arrivato a una soluzione. Dio becco. La carbonara. Ma il problema, cioè, io non dico che la carbonara faccia schifo. È che non mi piace l'uovo. Cioè, se me la fai senza uovo, te la mangio quanta ne vuoi. Che in realtà sarebbe la gricia. No. No. No, che cazzo è passato? Aia. Mamma mia. No, 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 no. Qui si sta mettendo male. Non lo so, sei alla diciannovesima partita, no? Alla ventesima. Eh, mi pare di averlo letto prima nelle statistiche su 73 gol fatti. Boom! Oh! Hai una media punti da, tipo, settimo, ottavo posto in Serie A in questo momento. Sì, ma alla diciannovesima, alla ventesima giornata, però, con questi punti sarei primo anche in Serie A. Cioè, perché trovo? Eh, ma poi io voglio vedere in Serie A, perché... Non lo so se poi... Sa la stessa musica. Va bene, 14 tiri a 7. Hai letto il nome dell'allenatore? No. Oddio. Va bene, tocca a te adesso, contro la regina. Gioco io con la regina? Vai. Io faccio spettatore non pagante. La regina. Testa a sesta, comunque. Eh, ho vinto 6 a 3 la prima... No, fra una cagata, davvero, una cagata pazzesca. Non ti diverti un cazzo. Va bene, dai. Si vola. Ecco qua, ragazzi. I ragazzi stanno cercando di fare due palleggi di fila, come potete vedere. Comunque, Gau, lo vedo abbastanza rotto, eh. Oh, è un pazzo sto qui. Ma guarda che forte, CR4. È tanta roba. Ma Ronaldo... E se non ci chiamerebbe CR4? Ehi. Ricci. Dai che non sai neanche stoppare un pallone. Neanche ne c'erano in terra. Eh, attenzione però. Forza. Non passi, coglione. Vieni qua. E se mi è in ticuto. Muori. Oh, ma che... Oh! Ma è fermabile! Guarda la vori. Il computer, ragazzi, è tostissimo. No. Gol. Vai pure a far palle. Dai, Rivas no, eh. Se piglio gol da Rivas... Ma è quello che giocava nell'Inter? Mi sa di sì. Ma corri! Dai, che questi non lo sanno nemmeno perché sono qua. Sono venuti a Pisa pensando di dove giocare da qualche altra parte. Che ne so, tipo al campetto della... Dell'oratorio. Sì, è un pochino lento a girarsi. Ma che cazzo... Scusami. No. Volevo solo capire una cosa. No, no, no. Dopo la bicicletta. Che cazzo fa? Che cazzo è sta roba... Cos'è? Buon coglione! Dai, fatti perdonare. Boom! No! No! Però è buona, è buona! Fino adesso non ho giocato. Ora è il momento di far uscire il drago. Cos'è? Cos'è sta roba? Ma che cazzo di gol ho fatto? Dentro di pochissimo. Che cazzo ti colezzi? Perché questo qui è da rivedere, da salvare. Questo ragazzo è un gol tipo la... Non lo so. Cioè, di prima così... No, questo è bellissimo. Io penso sia uno dei gol più belli che abbiamo mai fatto. A caso vuoi? Mamma mia. Così? Tipo da niente. Sì, esatto. Tipo la mia partita è stata questa. Ho preso scappole da tutte le parti, da tutte le angolazioni del campo. Contropiede, calcio d'angolo. Gol da... Dico bene fare qualche cambio però, eh. Da Alan, del Mbappé, Ronaldo, Cruif. Cioè, non lo so. Dao ragazzi non ce la fa più. Cioè, tipo il polmone racerato. Torregrossa è lento come la merda però salta. Mukoko... Sì, sì. Torregrossa sta... Resta un punk. Da, euro porco. Euro porco. Vabbè dai, sei stato onesto. Sei un fuorigioco. No, dai. Che gol di merda. Allora, dimmi. Dimmi no. Cosa cazzo fa il portiere? Cosa cazzo vuol dire? Ma per me era fuorigioco, eh. Ma te ti preoccupi di quello. Dove cazzo va? Cos'è? Ok, devi tagliare un pochino. Dio mio. Vega, ne salta uno, ne salta due. Vega, giro! Minchia! Su! Oh, cazzo di gol, eh? Mamma mia, ragazzi. Vega, si prende il gioco dell'avversario. Non lo tiene più nessuno. Sì, vabbè. Tocca chiuderla. Buono. Guarda. Powershot che poi non diventa più power e finisce in porta, giusto? Ionita! Direttamente con la traccia in mania. Ionita! Se facevi il gol tipo 30 secondi di gioco dopo, faceva risultanza PS5. Ancora sto ricci bastardo. Ottimo. Vai, avanti un altro. Vado a fare l'intervista. T'hanno massacrato di tiri, 13 tiri un gol. Eccolo qui, acciughina. No, 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 non c'è più di bala. Cioè, qua c'è... C'è Ionita. C'è un motivo se siamo battuti. C'è un motivo, eh. Siamo battuti, eh. Insomma, eh. Perché poi l'allenamento, eh. L'allenamento, eh. Pensi che la squadra regina si sia risparmiata? Nessuno riuscirà a fermarci. Cliccaci. Sangbin. Esatto. Due milioni. Sto qui però diventa forte, eh. Posso provare a prendertelo. Non c'ho soldi. Oh, ma quanti allenamenti ci sono? Eh, guarda, un cazzo in culo che l'allenamento non lo sopporto. Sì, se lo vuoi vendere, gli faccio una masterclass. Voglio provare a spilargli un po' di soldi. Massimo uno e due. Tra sei e sei. Guarda, sei una compaggiatore? Ah, compralo, vai. Ma quando cazzo ci mette sto goglione ad arrivare? Eh, ma tieni per saltare. Ah, ciao, ciao, ciao. Non me ne frega un cazzo, sono un coglione. Voglio solo i tuoi soldi. Sì, sì, siediti, siediti. Ci sono messo delle spine. Allora, puttana maiana. No, non affare fatto. No, noi vi chiediamo 1.300. Per 200.000 euro? Anzi, 1.400, perché so io. No, la notte non hai capito un cazzo, amico mio. Attento, attenzione, sopra. Sì, sì, sì. Allora, qua ti tocca abbassarla un pochino. Fai 1.300. 1.350. Eh, già più ragionevole. Così almeno ti faccio i soldi per sanguin. 1.300? 1.300. Si sta incazzando, quindi o l'accetti o si fa la con... Sì, 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 tranquillo. Acciughino è nel panico. Dai, 1.300. Ho spilato qualcosa. Eh, gli hai spilato 200.000 euro. Eh. Questo è buono, zio. Sì, che zà ci faccio, 49 di overhaul. Eh, no, è vero, sono tutti delle merda, effettivamente. Se vedemo. Esatto. Chi cazzo lo vuole, Simone Canestrelli? Quanti soldi abbiamo? Dov'è che li vedo? Eh, tipo se le vendi a un milione. Dov'è che si vedevano? Ufficio? Finanze. 52.000 euro hai. Tipo, se si scambiasse il Moukoko con Sangbin? No, sai, Moukoko non si tocca perché ha un potenziale di 87, zi. Sangbin ha 80 di potenziale. Moukoko l'ho preso dal Borussia Dortmund, eh. Cioè, insomma, non è che... Dopo l'ultimo scemo. Allora, proviamo a fargli uno... Che palle. Allora, ascolta. Eh, Mieti ti ci vogliono soldini, però. Via. Proviamo a fare una roba. Ecco fatto. E ti hanno chiesto poco, in realtà, eh. Sì, sì, ciao. Cioè, avresti potuto guarnere un profitto extra di 0 euro. Ma che cazzo dice? Sì, è rottissima questa cosa. Bene. Ora abbiamo un milione. Offerta per il trasferimento di... Marine. Ti serve? 2,2. Secondo me 2,5 ce li puoi tirar fuori. Anche 2,6. Dici? No! No. Oh, oh, sì, 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 sì. Prestito breve. Senza, senza, senza riscatto, è perfetto. Trattiamo. Perché? Che cosa? Che tratti? Lo stipendio? Ti frega. Prestito breve, sei mesi. Dividerlo. No, a tempo si è già 50 e 50. Ah, giugno ti ritorna a casa. Tanto, piglia 500 euro per 250 euro. Non comandi tu. Capito brutto, coglione? Attenzione, se tu tirò il Pisa, questa è la Coppa Italia, eh? Cioè, se perdi, l'hai il culo. Se no, chi c'è di giovane interessante? Massimo 3 milioni? Sì. Allora, che costa poco ci potrebbe essere Luca Romero, della Lazio, ma sono già coperto in quel ruolo. C'è l'Azetic del Milan. Poi chi c'è? Bove della Roma e Volpato, sempre della Roma. C'è Zanotti dell'Inter. C'è Callon del Verona. Degli Innocenti dell'Empoli. Ne ho segnati un paio. Agudelo? Agudelo costa quasi 4 milioni. Piuttosto dai, Unita al Parma e penditi Adrian Bernabè. Questo qua che te ne fai di Agudelo? Cerca Bernabè. Minchia, non vedo un cazzo. Eccolo, Adrian Bernabè. Ok, mi puoi offrire 1 e 1 e dargli Ionita. Che te ne fai di Ionita? Eh, lui. 1 milione e 5. Fai 1 e 1 e... Bisogna alzare il giocatore. Eh, ma fai 1 e 1 e dagli la clausola. Ah, pure si può anche alzare il giocatore, giusto? Centrocampisti sempre? Fra, però il livello c'è quello lì, eh. Eh, magari te l'abbassa. E magari gli dai 15%. 15, 15, va bene. E il negozio è offerta per il cartellino. Fai 1 e 1 perché sennò parla non ai soldi. Mamma mia, come va lento. Un attimo. Fra, non vedo più un cazzo. Mi ha buttato fuori. Ok, doveva avere in parte risolto il problema. Ok, 1 milione e 100. Dovrebbe essere onesta. Bomba. Si arriva lo stipendio. Secondo me è tipo 2.000, 3.000, va bene. Fai 5. Forse ci arrivi. Clausola ignora. 2k secondo me possono andare. Stipendio 1 euro da... Che hai detto? 2k. Sì. Vai, fai 2. No, lo so zi, è che è troppo lento, si bug. Come si bug? Mmm, 2.000 e 3.000, 20.000 di ingaggio. Rimuo... Controfferta. Modifica stipendio e bonus. Rimuovi il bonus. E dagli tutti i soldi che hai. In che senso? Fai 0, a 0 il bonus. Che hai detto? Il bonus di ingaggio. A 0. Eh. Sì, mi sa che è un po' infattibile da PlayStation 5. Ecco. No, anche la 5 è lontana dal router. Ok. Aspetta, lo finisco io. 2.333 gli do. Accettato. 2.333. Tipo... Non ho più soldi. Valutazione A. Ottimo affare. Visto che naso che c'ho. E sto qua è un 70. Quindi è buonissimo. E intanto mi sto spaccando di burro d'arachidi. Burro d'arachidi? Buono da nulla. Ma non mi fai impazzire niente. Vedi meglio ora? Abbiamo... Sì. Via. Abbiamo un lavoro da fare. Che bello stadio. Enorme. Minchia, Longville Stadium è pericoloso. Ma questo si chiama Carretta. Cioè, ma... Carretta. Uno che si chiama Carretta. Ma puoi essere preso sul serio? Buona. No. Iacobucci. Chi cazzo è? Altra partita avevano Poluzzi. Comunque il suo primo palo è rovesciata. È rottissima quella cosa. Sì. Ma non c'è neanche una tribuna sulla sinistra. Cos'è? Ma questo lo prende bene. Dischia la carriera. Ma non c'è neanche una tribuna. Tuttissimo. Giusto, giusto. Giusto, giusto. Mamma mia che... Leggermente la pala. Non c'entra nulla. Se lo perde bene, perde la gara. Cioè, se lo perde bene... Non puoi fare un'entrata del genere. Stavo per prendere il gol da carretta. C'è il vino contro. C'è il vino contro. Carretta! Meno male che lo è. Caretta, caretta, ma mi pare che corra più di quelli nostri. Oddio mio. Ma poi scusami. Perché dobbiamo giocare in casa loro l'ottavo? Non ci credo. Non lo so. Non lo so e adesso mi sto preoccupando. Che portiere di merda. Ma guarda lavori. Vabbè, Simo, non hai fatto un tiro. Simo, ci recupera sta partita. Eh. È un problema. Dio, carne. Eh, forse un passo più potevi farlo. Ho notato. Buono. Dì, vabbè, che cazzo. Mi sa che la vedo molto bizza. Mamma mia, che squadra. Dai. Ultima azione. Ce la puoi fare. Vai fino in fondo. Vai fino in fondo. Te l'ho detto di andare fino in fondo. Te l'ho detto di andare fino in fondo. Li conosco, i miei giocatori. Li conosco. Supplementari. Vamos. Contro il Sud Tirol. Sudatissima. Impazziscono tutti. I 20 tifosi che sono allo stadio. C'è, guarda il portiere. Cioè, se si può vedere una cosa del genere. Vabbè, avrà pensato. Meglio prevenire che curare. Il talento pisano. Vega è pazzo. VEGA! E' un pazzo! Sa fare una cosa sola, lui. Sa fare una cosa sola. Mamma mia. Quello che gli è sul te in faccia, hai visto il replay? Sì. Mamma mia, ragazzi. Vega. Se lo facevi col PowerShot, non lo facevi, sto gol. Boom. Chiappalo. Quattro la rigiocava. L'uomo della provvidenza, signori. Ancora lui. E' impazzito. E' un fire. E invece. No! Era il gol dell'umiliazione. Bomba! Sarebbe bello sapere con chi siamo capitati agli ottavi di finale di Coppa Italia. Ah, agli ottavi? Sì, questo era il secondo turno. Il terzo turno. 4 a 4 Bologna-Empoli. Vega parte la stessa!